Per fare un esempio, facciamo da mangiare solo qui da parte. Questa è la villa che però è chiusa perché non è agibile. Per fare un esempio, facciamo da parte. Per fare un esempio, facciamo da parte. Per fare un esempio, facciamo da parte. Per fare un esempio, facciamo da parte.